Benvenuti in questo nuovo video, oggi faremo un video dentro un camion dei pompieri Wow, un video dentro il camion dei pompieri, intanto facciamo il giro intorno al camion dei pompieri Eccolo qua, questo è il camion dei pompieri, vedete? Facciamo vedere anche l'altro Vedete? Al prossimo video! Questi sono i vigili del fuoco, e questa qui invece è la jeep dei vigili del fuoco, è vero? Andiamo a vedere in prossimo, andiamo a vedere un altro, in prossimo Eccola i pompieri, qua sono i nostri amici pompieri, vedi? Stanno arrivando i pompieri, vedi? Guarda, questi sono i nostri supereroi, che hanno tutti la divisa dei pompieri È vero? Vuoi andare a fare una foto con i pompieri? Mm? C'era una foto con i venti Grazie a tutti